Ah 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 uh 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 Il cantiere per la realizzazione della nuova sede del centro di formazione di eccellenza dell'ente scuole edile cpt della provincia dell'Aquila e ripartito qualche mese fa dopo essere rimasto fermo per più di un anno. La struttura sorgerà nella località San Vittorino lungo la strada statale 80 all'Aquila e sarà pronta nella primavera 2018. Sarà composta da due edifici, uno grande 2800 metri quadri distribuito su due livelli e verrà adibito ad uso didattico con aule e laboratori, mentre l'altro di 950 metri quadri sarà distribuito su tre livelli con alloggi e foresteria per studenti e docenti. Il costo complessivo dell'intervento è di 4.350.000 euro, di cui 2.000.000 a carico della regione e 2.334.000 a carico dell'ente scuoledile. È importante farla, specialmente in questo momento della ricostruzione, perché noi abbiamo sempre più bisogno di mano d'opera specializzata, anche per i vecchi mestieri, mi riferisco a quello della pieta, quello del falegname, quello del carpentiere. Purtroppo i vecchi masti formati nel 1980-90 sono andati in pensione e questi nuovi a volte non sono ancora all'altezza della situazione. A questo va unito, va detto il fatto che ci sono nuove specializzazioni, mi riferisco per esempio a chi monta i dissuasori sismici, chi monta la fibra di carbonio, i cappotti, gli isolamenti, i pannelli solari. Quindi sono tutta una serie di lavorazioni che sono, fra virgolette, moderne e che hanno bisogno di una grossa specializzazione sia in termini pratici che in termini di saper legge proprio le schede tecniche dei prodotti. Un progetto in cui hanno creduto sia gli imprenditori sia le associazioni sindacali e questo non è poco. Mi preme sottolinearlo perché significa che c'è stata molta attenzione e sensibilità verso quello che è la cultura della formazione delle maestranze in cantiere, ma non solo perché questo centro potrà anche essere utilizzato per i corsi dei tecnici e quant'altro. La scuola edile organizza corsi in materia di sicurezza, di formazione e professionalizzanti. Abbiamo sottoscritto alcuni mesi fa un protocollo d'intesa che prevede l'accesso agli studenti delle facoltà tecniche nei nostri cantieri, previa però la frequentazione di un corso specifico per la sicurezza dei lavoratori che si tiene proprio presso l'ente scuola edile di San Vittorino e questo è importante perché gli studenti in questa maniera verrà rilasciato un attestato che li seguirà poi per tutta la vita, che è quello di aver frequentato proprio il corso base per entrare nei cantieri. Deve essere, almeno questo lo spieghiamo, un progetto al momento regionale che porti tutte le imprese dell'Abruzzo a fare la formazione in questo territorio perché è qui che c'è la ricostruzione e pian piano si va trasformando su altri territori. Noi abbiamo anche intenzione di portare qui un centro di formazione per l'ST nazionale perché gli spazi ora lo rendono possibile e poi abbiamo oltre proprio le aule e tutti i campi di prova avremo anche una palazzina con sei appartamenti quindi lì gli operai possono stazionare, possono stazionare i docenti che andremo a chiamare perché la nostra idea è di servirci delle migliori professionalità e del miglior sapere che il mercato offre. aah 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 ooo hardest ooo 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 o